Ci sono motivi di sicurezza dietro la decisione dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite di sospendere le operazioni nel centro di raccolta e partenza di Tripoli. L'agenzia dell'ONU, che ha già iniziato a trasferire in luoghi più sicuri decine di profughi, teme per la loro sicurezza, oltre che per quella del suo staff e dei partner, visto l'aggravarsi del conflitto libico. La tregua, confermata durante la conferenza di Berlino, regge solo di nome, come ha spiegato l'inviato speciale dell'ONU in Libia, Gassan Salamè, denunciando le continue violazioni degli impegni assunti in Germania. Dopo l'inizio della tregua, il 12 gennaio, c'è stata una prima riduzione delle violenze che ha permesso agli abitanti della grande Tripoli di respirare, di prendersi una pausa dalle sofferenze della guerra. Ma visti i recenti sviluppi sul campo, mi dispiace segnalare che la tregua regge solo di nome. Ha parlato di una tregua fragile anche il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, per il quale i centri di detenzione libici vanno sì chiusi, ma bisogna anche investire sui rimpatri volontari e su centri di accoglienza sotto legida delle Nazioni Unite. Il titolare della Farnesina ha assicurato che nei prossimi giorni l'Italia avvierà il negoziato con il premier libico al Sarraj per migliorare il memorandum firmato nel 2017.